I custodi infernali. Caronte. Era il traghettatore delle anime. Trasportava i morti da una riva all'altra del fiume a Caronte. Nel terzo canto dell'Inferno di Dante viene descritto come un demone dagli occhi infuocati, molto severo con i dannati. Cerbero. In origine è guardiano degli inferi, in Dante è il guardiano del girone dei golosi. Il mostro è descritto con occhi rossi, peli del muso sporchi e neri, ventre largo e zampe artigliate. Emette latrati che assordano i dannati e li scuoia con le unghie. Minos. In origine la rea di Creta. Viene collocato nell'Inferno come giudice dei dannati. Indica all'anime in quale cerchio è destinata, arrotolando la coda lunghissima di serpente. È collocato nel cerchio dei lussuriosi. Il quinto canto. Minotauro. Dante lo colloca a guardia del settimo cerchio, dove sono puniti i violenti. Originariamente era figlio della principessa Pasifae e di un bellissimo toro bianco. Era collocato all'interno del labirinto di Creta. Fu ucciso da Teseo, principe di Atena. Centauri. I centauri sono nel primo girone del settimo cerchio. Hanno il compito di saettare i dannati immersi nel flegetonte, fiume infernale, fatto di sangue bollente. Arpie. Mostruosi uccelli dal volto femminile. Dante le colloca come custodi del secondo girone del settimo cerchio, la selva dei suicidi. I suicidi una volta morti rinascono all'inferno come piante. E di fronte a loro, attaccato ai rami, c'è il loro corpo. Le erpie si cibano delle foglie e degli alberi, provocando estremo dolore ai dannati. Gerione. In origine un gigante. Nella Divina Commedia un mostro demoniaco dal volto di uomo. Zampe di leone, corpo di serpente, coda di scorpiona. Ali di drago. Conduce Dante e Virgilio nelle profondità infernali. Le malevolge. Gerione è il custode di chi si macchia del peccato di frode. Satana Lucifero. Dante lo descrive nel trentaquattresimo canto dell'inferno come un'enorme orrida creatura pelosa, dotata di tre facce su un solo collo, e tre paia di ali di pipistrello con cui congela l'ultimo fiume infernale, il cocito, in cui sono immersi i traditori. In ognuna delle tre bocche maciulla con i denti un peccatore di livello massimo, brutto e cassio ai lati, giù dal centro, ovvero i traditori dello Stato e il traditore della religione.